Quattro, tre... Giorgini? Giorgini, tre posizioni, secondo lungo... Sesto, Daverno, quarto di viaggio, quinto, correnti, sesto, Pistolesi, settimo, Giannini, ottavano Del Felice... Eh no, eh dai Patrini, però, porta due, no... Patrini devi frenare... Ma non lo faccio a posto, arriva che faccio passare, una cosa tranquillo... Chi è questo per di Pietro? E' io, top! Vai, vai! secondo giro per vergini 43 e 9 seguiti a tre secondi e sette, Talerno terzo, Pistole di quarto, Giannini quinto, De Felice basta, 47, filiaggio ottavo ancora davanti i vergini, è girato in 44 e 6, Lugio 44 e 8 Pistole di 44 e 7 Giannini quarto, Correnti quinto, Best Lap 43 e 8 Pistole di 4, Lugio 44 e 9 Best Lap in questo quarto giro per vergini 43 e 7 Lugio 44 e 7 in seconda posizione Pistole di 45 e 7 in terza posizione Pistole di 4, Lugio 44 e 7 in terza posizione Pistole di 4, Lugio 44 e 7 in terza posizione Pistole di 4, Lugio 44 e 8 in terza posizione Lugio 44 e 9 in terza posizione complimenti a caverna per la sportività è l'ora di Molli che gli costa caro, tre posizioni, scivola una quinta piazza Taverna e De Felice, avete il leader della gara dietro, la macchina rossa non so che, l'ora di Molli che era, non so che, non so che, lo prego Il giro precedente, Virginia ha fatto segnare un 42,7 probabilmente best lap di giornata Correnti e Pistolesi lottano per la seconda posizione, Virginia a 15 secondi Quarta posizione per Giannini e Quinto Lulli Del Belice occhio saloppiato Qui sul traguardo abbiamo Del Belice, Giannini e Pistolesi Sei doppiato da entrambi, quindi occhio Conduce ancora Virgini, segue correnti a 16 secondi Giannini a 22, Pistolesi a 23 Ora correnti a 17 secondi e mezzo Pistolesi terzo a 25 secondi Giannini quarto a 25 e mezzo Lulli quinto Sto a 34 e mezzo Un minuto e 15 al termine Ancora 15 secondi Il vantaggio di Vergini Su correnti Sbavatura di Vergini Allora Alogni Alarno 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 conduce Vergini in questo ultimo giro finale a gara 3 corrente a 12 secondi e mezzo soppa la 6 di Giannini che chiude quarto soppa la 5 soppa la 7 di Lulli soppa la 9 di Vergini che vince questa gara 3 soppa la 10 di Piliaggi e chiude sesto